Salve ragazzi, benvenuti nel mio canale. Oggi ragazzi, come potete vedere, siamo qui su Farming Simulator 19, nella mappa Minibrun, questa volta in cooperativa con il nostro compare Stan84. Salve Ste, bentornato. Ciao Simulator, ciao a tutti i ragazzi e benvenuti qui al canale. E benvenuti nella Minibrun, ovviamente. Esatto, come al solito in modalità cooperativa. Esatto. Ci siamo lasciati lo scorso episodio con l'inizio della semina delle patate. Ste aveva iniziato e terminato la semina del mais, avevamo però prima digestato i campi, insomma avevamo fatto le classiche lavorazioni pre-semina e poi finalmente avevamo seminato. A me manca da seminare solamente il campo 9-11 che mi aiuterà Ste, lui coltiva, io passo dietro con la seminatrice e poi per quanto riguarda la semina siamo a posto. Oggi però ci occupiamo di una cosa totalmente differente o meglio, in parte, perché andiamo comunque a fare delle cose che serviranno per gli animali. Ovvero andiamo a prendere il campo 1 e 17 che come vedete sono erba e sono già pronti per la raccolta. L'andiamo a falciare e andiamo a farci insilato al biogas, così poi lo sfrutteremo per dare da mangiare alle mucche, insomma. Più che altro alle mucche, anche perché i maiali non hanno bisogno di insilato, vero? Eh no, eh no. Mi pare proprio di no. Vabbè, però per le mucche sicuramente sì. Quindi oggi andiamo a trattare quello, così vediamo anche i macchinari, quelli un pochettino più corposi, legati alla falciatura e poi almeno ci dedichiamo poi nelle prossime puntate al resto delle lavorazioni. Per il momento siamo pronti ad andare. Tu stai prenditi, se riesci, il coltivatore, quello dall'altra volta. Sì, sai dove l'ho messo? Non mi ricordo, l'ho portato in farm forse, mi ricordo. Sì, in farm, in farm. Mi avevi detto che l'avevi portato in farm, ricordo. Ah, eccolo qua dove l'ho lasciato, giusto. Eh, visto che l'hai trovato. Però già sono qui. Adesso il tempo a rato posso passare io? Io credo di sì, in teoria. Sennò guarda, un attimo perché prima sono venuto qua nella tua farm e ho lavato un attimo il Johnny perché era un po' sporco. Adesso mi lavo anche il New Holland visto che... Verà già che ci sei. Vabbè, io inizio sull'undici. Sì, sì, vai, vai pure. Perché non gira? Boh, vale, si è bloccato. Aiuto, si è bloccato. No, guardalo. Ma dove va? Ma ti giuro, non sto toccando niente, ti giuro. Guardalo. Si è bloccato completamente. Fermo! Ok. Niente, stai, si è bloccato tutto. Si è bloccato tutto completamente. Eccolo. Ma che caspita! Ma che caravolo sta succedendo! Non è la GPS. Eh sì, sì, ma hanno tutto il crash. Esatto. Ma... Che ridere. Vabbè, meglio non usarla, va sta GPS. Che faccio prima senza, va? Che robe, che robe, veramente. Casomai metti l'operaio. Bisognerà fertilizzare o siamo a posto? No, siamo a posto in teoria. Ma è che io sappia siamo a posto, dovremmo essere a posto. Vediamo un po' per essere sicuri. Allora, pH, vabbè, il pH... Eh, qua, boh, non lo so, perché più che altro franco sabbioso. Boh, non lo so, sinceramente. Non ti so dire se bisogna... Va bene, ascolta, io qua ho finito. Ok, ho visto, bene. Nel frattempo che l'operaio invece finisce di fare le patate, noi ci concentriamo... Sulla lavorazione. Esatto. Cosa dici, lì non leggo io i vari macchinari? Sì, 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 va benissimo. Allora, io sarei tentato di prendere... Cosa prendiamo, la cron, quella grossa? Fammi vedere. O prendiamo la miti trebbia per foraggi? Beh, comunque una di queste tre va benissimo. C'è la lama quella. Più che altro, più che altro, la lama. Prendiamo la X-Disk 620. Esatto, perfetto. Dovrebbe essere giusta questa qui della cron, perché in realtà c'è anche la Easy Flow 300S, ma è piccolina. No, no, va benissimo. Credo vada bene questa, diciamo. Sì, sì, penso proprio di sì. Allora, prendiamo questa in lama qua, intanto. Poi adesso vi faccio vedere la trebbia che prendiamo. O no? Ok, sì, sì, no. Difatti te lo chiedevo io cosa vuoi prendere, se usiamo i nostri rimorchi. Ma no, prendiamo un cassone, lo noleggiamo, dai. Tanto costa poco a noleggio, dai. Non costa più tanto. Vabbè, io intanto mi metto giù il bunker. Sì, sì, allora io prendo questo a noleggio. Lo metto in farm, tanto non è un problema. Sì, sì. Lo metto vicino al silo così. Tanto abbiamo il camion, col camion è un attimo. Allora. Vicino al silo siamo a posto. Ok, raga, eccoci ritornati in partita. Adesso vi posso fare vedere la grande uscita di una settimana fa circa, ma va bene. Il buon Peppe978 ha rilasciato questo bellissimo Iveco. Iveco 198 che potete trovarlo nel moddub ufficiale o comunque nella sezione mod del gioco. E dovrebbe essere sia per PC che per console. In teoria, da quello che so io. Piano, ragazzo. Mamma mia, che roba. Uè, oh, uh. Piano, piano, ehi. Che roba. Non l'avevo ancora provato, giuro, che roba. Non so se poi, raga, vedrete durante la settimana video su questo camion. È perché sono stati fatti dopo questo video. Però in realtà questo è il primo test che faccio su questo camion, eh. Quindi queste sono le impressioni originali. Tutte le altre che avete visto prima, se mai ne avete viste, non sono originali. Vabbè. Comunque. Devo dire molto, molto bello. Vabbè, a parte ciò, vado a mettere un secondo. Intanto testalo un po' se vuoi provarlo. Sì. Vado, vai. Faccio il test mode qua in diretta. Test mode. Test mode in diretta. Esatto. Che roba, eh. Che sound. Che roba, che mostro. Che mostro. Ah, vabbè. Scappa con il mio camion. Dove vai? Venga, venga. No, no, stai, stai, stai. Stai pure. Eeeh, sì. Oh, 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 oh. Oh, eh. Scusa, scusa. Ascolti, partiamo dall'1. Sì, partiamo dall'1, partiamo dall'1. Eh, mi raccomando le lampeggianti, eh, se lei ce li ama. Mi sembra che lei non è disposto di questo, quindi. No, no, per il momento sono sprovvisto di... Vabbè. Mi facci strada a lei, perlomeno. Sì, sì. Così almeno... Uh, bisogna comprarli, però, ovviamente. Sì, dopo li restituiamo, comunque, eh. Sì, sì, esatto. Oh, quanta bella erbaccia che abbiamo qua sopra. Sì. Va bene, allora, dai. Uno lo compro io, dai. Tanto inizio a comprare l'1 io. Compra. Sì. Ok. Bene. Così almeno sono sicuro che mi fa falciare. Ah, falci tu e l'ora qua. Oh, se vuoi partire te, per me è indifferente, eh. Non c'è problema. Veda lei cosa vuole. Non c'è nessun problema. Mamma mia, che sound, oh. Che sound, ragazzi. Eh, credo che... Ti vengo dietro io per il momento. Eh, credo di sì. Forse è la cosa migliore. Aspetta che facciamo così. Abbassa. Scarica? Sì. Oh, sì. Scarica, scarica. Aspetta che mi setto il... Sì. Sì. Il conto a chilometri. A quanto vai? Eh, credo a 10 in teoria. Non sono arrivato ancora alla velocità massima. 16, insomma, 16, 17. Ops. Oh, 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 oh. Mannaggia, oh, sti tubi, porca miseria. Stavo dicendo, raga, abbiamo iniziato, ma a quanto pare... Non ti lascia. Sti... Sti... Pah... Eh, vai veleggermete avanti? Maledizione! Chiudi il tubo. Eh, ma... Vabbè, chiudiamo il tubo, tanto. A meno che io... Aspetta, voglio vedere se ce la faccio dietro. Fermo lì un attimo. Ok, boh, proviamo, eh. Io vado. Vai, 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 ottimo. Perfetto, ce la fa, bene. Ottimo, ottimo. Ok, raga. Siamo effettivamente partiti con... Boh, la trinciatura dell'erba. La trinciatura dell'erba. E... Eccola qua. Con il nostro nuovo acquisto. A noleggio, ovviamente. Tutto a noleggio, mi raccomando, perché sennò... Tutto a noleggio. Non riusciamo vivi. Il nostro bel... Ah, vabbè, quello è scontato. Vabbè, a me sembra... Purtroppo i lag si fanno sentire. Eh, vabbè, comunque va benissimo, così. Perfetto. Adesso in teoria dovresti poter stare a lato. Sì, sì, sì. Ottimo. Meglio di così, veramente. Non si può chiedere. Comunque devo dire che lagga molto meno... Ma cosa ti segna? Pula o erba? Erba. Ops. Ah, erba, erba. Vabbè, erba sì. Comunque sì, è giusto. Sì, sì, no. Pensavo che... Dato che non l'avevo mai provata, sta faccatrice. Mamma mia. Pensavo che segnava il pula. Quando vai in qua e là vuol dire che sta laggando per simulator. Eh, sì, esatto. Esattamente. Ma in teoria dovrebbe starci tutto. Ma in teoria sì, anche perché c'è l'erbaccio e tutto, quindi anche... che carica anche un bel po' meno, quindi... Riusciamo a fare il contorno? Dovremmo... Eh, sì, aspetta, fammi... Perché guarda che purtroppo me le manovre non vengono proprio... Alla perfezione, ma comunque ci proviamo. Va su, va su, che... Però fermati. Sì, sì, ti vengo dietro, tanto non... Prende bene, prende il condotto. Bene, bene. Non ci voleva neanche il condotto più lungo, meno male. Avevo paura che sinceramente ci volesse il condotto un po' più lunghetto, invece. Meglio così. Beh, devo dire che ha veramente... un fascino spropositato questo bellissimo Iveco, eh. Mamma mia. Poi c'è questo sound che veramente... Ti fiamo, ti fiamo Iveco, non Cron. Ah, voglia. No, no, oggi ti fiamo Iveco. Oggi ti fiamo Iveco, niente Cron. No, no, Cron oggi lasciamola perdere. Eh sì, che questa Big X... Vabbè, anche la Cron, eh, per carità, eh. C'è al suo perché, eh. C'è al suo perché, c'è al suo perché. Però io sono un amante di camion, eh, purtroppo. Devo dire che questa... Oh, devo dire che abbiamo un senso di coordinazione, comunque. Sì, sì, sì. Che fatta con sta lama qua, non l'avevo mai fatto io l'insilato. L'ha raccolto l'erba, diciamo. Neanch'io, è la prima volta che faccio questa... E non sapevo che si raccogliesse erba e non pula. Esatto, anche io pensavo pula. Oh, non l'ho ancora fatto vedere da dentro, io, eh. Eh, farò vedere perché è veramente un'emozione anche l'interno, veramente dettagliatissimo. Ah, devo dirti, i sedili che sorbalzano. Carino però da dentro, dai. No, no, ho fatto veramente bene, eh. Il buon Peppe non si smentisce mai. Però rallenta un po', capisco le turbine, ma rallenta leggermente. Ma so, un po'. Sì, rallenta solo leggermente. Ti ci sta tutto? Eh, che ne so, aspetta, vediamo. Sì, sì, beh, sono al 94%. Eh, beh, non so mica se ti ci sta tutto, vabbè. Vabbè, vediamo quello che riusciamo a fare. Quant'è che tiene questo? 59? Sì, 59. Fermo, 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 fermo. Basta. Oh, fermati! Mamma mia, ragazzi. Finito? Sì, io non... È pieno. Vado a scaricare e arrivo. Eh, ma a questo punto andiamo direttamente al 17. Ci manca giusto una mini striscia. Va bene, va bene, allora, ottimo. Ah, vabbè che tanto... No, vabbè che tanto sei qua dietro. Così almeno dai, la finiamo tutte, buonanotte, va? Tanto sei qua dietro, no? Pensavo fossimo più lontani. Allora, scarica. Perfetto. Ottimo. E ho due marmitozze, c'è qua dietro sto... Vai! Oh, mamma mia, senti che roba, oh. Che velocità, che velocità. Quanto va di massimo? 85 mi sembra, adesso. Vabbè, buono. Sì, 85. Bene. Fine. E il campo 1 è fatto. Ok, fine. Fine della favola. Ti lascio il camion, porta il camion, che io... Esatto. In un attimo, sono là. Ok, me lo son comprato, se vuoi venderti... Sì, adesso mi vendo l'altro campo, dammi solo un secondino. Bellissimo. Io metterei anche un po' più di sprint, se vuoi. Che cosa? Settati a 22. Ah, sì, alla trincia. Sì, metti 22. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Vai, vai, vai. Ti sono un po' troppo attaccato, eh. Ah no, vai, vai, vai. Ah, miseria, ma dov'è che sta andando a scaricare? Perfetto. Ok, dai. Perfetto, meglio di così Non si poteva chiedere, raga Meglio di così Non si poteva chiedere Non credo forse sarà il campo Dove stai andando? Sul campo Sei metà dentro Metà fuori, comunque Eh, va bene, un po' di più, dai Ah, giusto, così almeno Rubiamo un po' di Un po' di erba della natura Niente, sei bloccato Mi dispiace, purtroppo Io ogni tanto ho queste problematiche Eh Dati dai lag, purtroppo non ci posso Fare granché Ok, e si prova anche Questa raccolta qua Invece di fare mais Raccogliamo erba, noi Sì, no, devo dire che Tanto il mais, comunque, ragazzi, vi ricordate Nelle prime puntate della mini-brun l'avevamo trattato Come trinciato Abbiamo portato tutto all'insilato, al biogas Per cui Eh, esatto Esatto, esatto Che è stato proprio il nostro primo insilato Eh Ci mancava solamente l'insilato dell'erba Quindi Perché non farlo, direi Se riesci a non frenare Fare direttamente la curva Almeno non Non freno Non perdiamo Sì, capo Come sei di capacità? 97% Ah, ormai sei pieno? 98% Sì, sì, sono quasi pieno Adesso è 99% Eeeh Ferma, 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 ferma Boh Vado a scaricare Certo Ok, intanto Inizio a Pompater Se la fai Venire indietro Dovrei riuscircela Boh, dai Non voglio esagerare Scarica Ok Scarichiamo tutto bene Raga Scarichiamo tutto Scarica tutto Scarica tutto Dai, accelera Porca miseria Che crea le montagne Accidenti Oh Mamma mia Sti lag Sono improponibili oggi Eh, comunque Finché tu vai Io mi Eh, salve Salve Che roba Sì, mi dispiace per questa montagna Però Non è colpa mia, diciamo Perfetto Oh là Meglio di così Non si può chiedere Si riparte Buenos, buenos, buenos E abbiamo finito il campetto Et voilà 75% del carico Abbiamo caricato Non male Assolutamente Non male Perfetto Preciso, preciso 75% Questa può stare anche qui E io ti aspetto in farm Sì, vengo a scaricare Arrivo Vengo a scaricare Tu quanti scarichi hai fatto dal 1 1 1 1 pieno E invece noi qua E invece noi qua 1 e mezzo 1 e tre quarti Bene Non male Ok, eccolo qua Perfetto Aspetta, ecco qua Ma mettiti pure in mezzo Perché tanto Boh Boh Allora Scarica Eccolo qua Che comincia anche il nostro display A dare informazioni Perfetto Voilà Ottimo Perfettamente Perfetto Ok 162.000 litri Per quello Buono Buona mano Se vuoi Eccolo con 190 Te pareva Oramai è diventata la mascotte Qua della puntata Oh se la cava bene pure col trinciato Eh 96 97 Bene via Esci Eh Aspetta Esci che chiudo Chiuso Aiuto 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 Ho chiuso Ho chiuso Vabbè Guardalo Eh Via Ok A posto Bene ragazzi Bene Anche questa è fatta Per questa puntata Abbiamo Terminato Ci siamo fatti un bel po' di Insilato Adesso questo qua Ovviamente poi Fermenterà Per diventare insilato Da dare alle Mucchette Nel prossimo episodio A questo punto Ci dedicheremo Poi Alla trebbiatura Delle patate Del mais Per poi Finalmente comprare I nuovi Animaletti Per il momento è tutto Ovviamente ringraziamo Il buon Stan Per l'aiuto Conferitoci anche oggi Io ti ringrazio E devo anche Dirti un'altra cosa Che devo apprezzare Il tuo casual Il tuo look Di oggi In camicetta rosa Che fa Pandan Coliveco Se ne è accorto Se ne è accorto Se ne è accorto Vabbè È giusto Purtroppo raga Voi non potete vederlo Ma la mia camicettina Bella rosa Oggi Oggi è così Mi sentivo di rosa Ah ve la faccio vedere Eccola qua La mia camicettina rosa Eccola qui Vabbè niente Per il momento raga Ci fermiamo Ovviamente vi ricordiamo Che in descrizione Potete trovare i link utili Compreso il link Delle donazioni Se volete fare Un piccolo supporto Ai canali E ovviamente vi ringraziamo Nella mia descrizione Potete trovare anche il link Per comprare questo Ma ovviamente anche tanti altri giochi scontati E ovviamente Il link Per i vari canali Io e il mio Il mio canale Nella sua descrizione Nella sua descrizione No E nella mia descrizione Il suo canale Ok Ce l'abbiamo fatta Ce l'hai fatta Ottimo Va bene dai Andate giù Andate giù in descrizione Comunque Trovate tutti i link utili Esatto Per questo episodio Direi che è tutto Dal buon Iveco Eccolo 193 38 E tutto Ci sentiamo Alla prossima puntata Ciao ste Ciao a tutti Ciao simulator Ciao ciao a tutti Ciao 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 ciao